Domenica incontriamo Salerno, è un derby molto importante per noi, per quanto riguarda la nostra classifica. Veniamo da una buona prestazione nel discorso con la Lewis, soprattutto nella parte finale della partita, dal terzo quarto in poi, e dobbiamo cercare di ripeterci con Salerno con la stessa intensità che abbiamo messo a punto dal terzo quarto contro la Lewis fino alla fine. Come sono detto dobbiamo pensare a noi e dobbiamo continuare a pensare a noi, dobbiamo lavorare molto sull'intensità difensiva perché solo così possiamo avere un'arma in più che può correre il nostro contropiede e in attacco dobbiamo continuare a muovere la palla come abbiamo fatto mercoledì scorso. Mi aspetto una prestazione leggera da parte dei miei, la stanchezza sicuramente dopo due partite in quattro giorni si inizia a sentire, però sono sicuro che i ragazzi riusciranno a trovare in fondo al barriere l'ultima sbricioli di energia e di voglia per vincere questa partita. Per noi, ripeto, è fondamentale, è l'ultima in casa di questa prima fase e come ho detto nel discorso speriamo di arrivare alla seconda fase non solo con quattro punti. Quindi concentrati dal primo all'ultimo minuto e prestazione corale è l'unica cosa che chiederò ai miei ragazzi.